Una rissa finita in tragedia. È la prima ricostruzione dell'omicidio di Giuseppe Vezio, 64 anni, ha coltellato ieri a Vittoria. I carabinieri hanno fermato quattro persone, Gaetano Pepi, 70 anni, e i suoi figli Antonino, Alessandro e Marco, rispettivamente 42, 38 e 26 anni, tutti agricoltori. Secondo gli investigatori, la vittima avrebbe impedito l'accesso ad una trazzera che conduceva ai campi e dalle parole si è passato poi alle vie di fatto. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore di Ragusa Valentina Botti, che ha interrogato fino a tardasera i fermati. Si deve accertare con certezza che ha sferrato i fendenti mortali. Qualcosa in più potrebbe rivelarla l'arma del delitto, che non è stata però ancora ritrovata.